che effettivamente, vabbè io non amo mai chiedere prima il contesto della canzone però visto e considerato che voi cantate in lingua vorrei che insomma il pubblico riuscisse a capire anche meglio il vostro messaggio quindi la verità intesa in che modo? visto che l'hai scritto tu il pezzo guarda sostanzialmente parla del mio carattere cioè io spesso mi allontano dalla realtà vado in un mio mondo però ti allontani in realtà, ti allontani anche da casa tua perché una volta è Spagna, una volta è Portugale, una volta è Parigi però il problema è che quando lavoro non posso viaggiare e quindi viaggio con la mente, con la testa e quindi mi estraneo molto da tutto il mondo che mi circonda e la verità in questo senso? la verità è che quando poi io ritorno sono sempre più sincero cioè cresco in questi viaggi fantastico, bene, c'era un film di Alberto Sordi che spiegava molto bene questa cosa che la chiamava la Trimurti cioè in sono un fenomeno paranormale lui usciva dal suo corpo per seguire un santone indiano ed era lì che addirittura riusciva a vivere delle storie molto più belle cioè nella sua parte speculare a caleidoscopio poi quando rientrava nel suo corpo tutta la vita era una grande vabbè comunque insomma voglio dire più o meno dai così succede, succede bene, ok allora dai il microfono al nostro amico Francesco loro sono Salvi, Federico e Francesco e tutti e tre insieme con ovviamente la manager che ci ha spiegato il suo picco di follia nel seguirli nelle loro gesta qui oggi ad Aghe Barbie Show con La Verità e questa è la mia storia E' la verità, a volte io mi perdono in il sol di mio cielo Però quando vengo sono sempre più sincero I cadaveri che tu mi dici o Dio te chiedo I cadaveri che Dio mi dico e sapevo Baila, baila, baila la mimorità Baila, baila, baila la cinità Baila, baila, baila la signorità Baila, baila, baila la signorità Baila, baila, baila la signorità Baila, 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 baila la signorità 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 Bene, siamo proprio in chiusura Questa settimana Allora devo salutare i miei ospiti di oggi Secondo me meritano molto Mi è fatto molto piacere averli al mio show Quindi salutiamo Inota Gitana Ciao ragazzi, in bocca al lupo Grazie ancora a tutti Come si dice? In bocca al lupos Così, tanto per rimanere Crepis, giustamente Ma anche a Sorretas Perché così andiamo a fiducia Bene, allora dunque Noi ci salutiamo qui, vi ricordo